Bella a tutti ragazzi qui WilliJ e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi su un gioco diciamo di calcio e auto ovvero Rocket League ragazzi E' veramente un gioco spettacolare Mi avete detto, alcuni di voi mi avevano detto gioca a Rocket League, gioca a Rocket League E infatti ci giocavano anche loro quelli che me lo dicevano appunto Però io ho detto ma proviamo a scaricarlo, l'ho scaricato perché è gratis per i membri del Playstation Blast fino a fine luglio Quindi correte immediatamente a scaricarlo perché è un gioco stupendo Mi sono fatto la prima partita esattamente due settimane fa appunto con questi che me lo dicevano Con questi di voi che mi dicevano di fare questo gioco e ho detto fermi dobbiamo fare il video assolutamente E oggi siamo qui appunto, trova nuova partita, facciamo caos ovviamente modalità totalmente caos Server europei e troviamo una partita Ed eccoci qua in partita, server europeo Siamo in 4 contro 4, io ho questo bellissimo gipetto Guardate che roba spettacolare con la bandiera dell'Italia e le corna C'è qualcosa veramente di stupendo Questo gioco è una cosa veramente molto stupenda Comunque aspettiamo che entri un altro giocatore Vabbè si è avviato ora stesso, qua io sto spostando il microfono E via, attenzione la palla è già là, mamma mia Ovviamente questo gioco è molto semplice Perché noi dobbiamo semplicemente I blu devono fare, siamo arancioni contro blu Squadra arancione contro squadra blu Il gioco è tutto online, c'è anche l'offline ovviamente Però ovviamente è molto semplice da capire I blu devono segnare nella porta arancione E gli arancioni devono segnare nella porta blu Comunque penso che sia molto semplice da capire come gioco E poi a tutte le cose del calcio Però solo con le macchine Allora io vedo un po' di fare qualcosa con il nostro camioncino Poi ovviamente come vedete in basso a sinistra No a destra scusatemi In basso a destra dello schermo C'è correzioni proprio all'ultimo secondo In basso a destra dello schermo C'è una specie di cerchetto dove c'è scritto 35 Ora c'è scritto 100 Cosa vuol dire? Questo qui è il nitro È il nitro che appunto Ecco quello si è schiantato addosso a me Comunque è il nitro che appunto Possiamo mettere dentro l'auto No abbiamo dentro l'auto per segnare Oppure per parare Mamma mia l'ho parata Dai l'ho parata L'ho parata Vediamo un po' Mamma mia che devasto Allontaniamo la palla Mamma mia no autogol Quasi autogol ragazzi Quasi autogol Vai che partiamo Vai che partiamo Avete visto? Poi con il nitro Se ce l'abbiamo a 100 Con questa sfera qua Possiamo anche far esplodere i giocatori avversari ovviamente Se ci schiandiamo addosso ai giocatori Comunque la palla è qua Ferma dai Vediamo di fare qualche gol raga Mamma mia No ci hanno fatto gol Ci hanno fatto gol Veramente Un gol bruttissimo Guardate 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 che roba io Ero fermo là Perfetto Mamma mia Mamma mia che gol Cioè io ero fermo E mi hanno fatto gol Eccola qua La palla Di nuovo gol Di nuovo gol No è incredibile Stiamo perdendo 2 a 0 Cioè guardate che cazzo Che cazzo è successo Vediamo Se vabbè Dai E' autogol Non ci credo E' stato un autogol E' stato un votuto autogol Dai non ci credo Dai vediamo un po' Se riusciamo Almeno a fare un gol Perché veramente Con la squadra che si fa gli autogol Pure dai Dai Mamma mia Sta palla vola Da un punto all'altro Del campo Che è una meraviglia Allora vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Dai che l'ho messa al centro Dai che l'ho messa Al centro Mamma mia Nessuno è riuscito A prenderla E ora ci fanno gol Sì Allora ragazzi Perché è così impossibile Riuscire a fare Un cazzo di gol Cioè guardate che roba Io gli avevo In un certo senso Fatto Un bell'assist Però niente Non la prende nessuno Quindi nulla Vai 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 Possiamo fare Possiamo fare Mamma mia L'ho lisciata Comunque abbiamo segnato uguale Abbiamo segnato uguale Guardate che cazzo di roba Guardate come l'ho lisciata Boom Mamma mia Se la prendevo Comunque Venno male che c'era L'altro della mia squadra Che era pronto Diciamo A tirare in borta E quindi Grazie a lui Abbiamo fatto un gol Però C'è un piccolo problema Il piccolo problema Sarebbe quello Che stiamo perdendo 3 a 1 Quindi questo È il piccolo problema Però Diciamo che Questa palla Quando va in borta Esplode È una palla Molto strana Comunque È una palla Molto ma molto Strana Qua c'è uno fermo Perfetto Dove cavolo Dove cavolo è Poi certi momenti Scombare la palla E lì Sono esplosi Dei giocatori Comunque Se clicco triangolo Tipo Mi se ne va In una visuale Diciamo Che mi inguadra La palla È sì Buona Però allo stesso tempo Non è buona Perché sballi Ringoglionisce Sto a guardare Solo la palla Comunque Abbiamo fatto Novamente gol E quindi Stiamo recuperando 2 a 3 Manca un minuto Alla fine della partita Vediamo un po' Vediamo un po' Mamma mia Che lavoro di squadra Che lavoro di squadra Che hanno fatto Dai Voglio fare un gol Voglio fare Dai Vai Mamma mia Dai che ce la posso fare Se questo me la fa Dove cazzo Ragazzi Che cazzo è successo Quell'esplosione È esploso tutto Chi è che mi spinge Ovviamente Mamma mia Io mi ero lanciato Totalmente a caso Intanto Stavo facendo gol Cioè è assurdo Mancano 30 secondi Vediamo un po' Dai Dai Venite qua Porca vacca No Dai Dai Levatevi di davanti Che qua faccio gol E Mamma mia Mi ero No no Però Inghia Che vaffanculo però Dai Cioè Non è possibile Non riesco a fare gol Quelli che mi spingono Poi Vaffanculo Dai Porca troia Va 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 Vaffanculo Va Va che roba Cioè Ma vaffanculo Guardate Quello mio la tira in bordo E io gli aiuto a invilarla in bordo Giustamente Normale Normale E vabbè Finisce qua la partita Partita ovviamente persa Ma noi Ne andremo a fare un'altra E speriamo di vingere Ed eccoci qua Nella seconda partita E appena iniziata Cioè ci ho messo veramente tantissimo Ho ucciso uno Ottimo Ci ho messo comunque veramente tantissimo A trovare una partita I server non mi trovavano una partita Sono stato forse 6 minuti Ad aspettare una partita Qui A me mi spingono E boh A me mi spingono Quindi speriamo di fare qualche gol Perché Nella partita precedente Non abbiamo fatto manco un gol Però Se quelli della mia squadra Continuano a spingermi Mi sa che Mi verrà proprio impossibile Fare un gol Vai Mamma mia E' buona E' buona Niente Però abbiamo segnato ugualmente Abbiamo segnato ugualmente Guarda che roba Guarda la Bam Cioè io Io l'ho colpita Posso dire Posso dire di averla colpita Un belino Forse Ma forse no Vai regà Vai Ma che cazzo fa quello Ragazzi Quello della nostra squadra Ha levato il gol Ha levato il gol No no Non ci credo Non ci credo Ha levato il gol Guardate che roba Meno male che poi c'era Quell'altro E ha segnato Cioè io non lo so Io non lo so Mamma mia Dov'è la palla Dov'è la palla Che ho perso la palla Eccola lì No no Qua ci fanno gol Mi sa Qua ci fanno gol No 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 Non ce la fanno in gol Il nitro me lo volevo prendere io Però me l'ha levato Dai dai Vediamo Vediamo di fare Qualche cosa Qualcosa di buono Dov'è la palla? È là Vai Non ho neanche il nitro Per partire Ottimo Dai dai Che cade davanti la porta Dai Dai Ora Niente Troppo prima Troppo prima Troppo prima Attenzione qua Attenzione Attenzione Mamma mia Mamma mia Come rischiamo Di prendere il gol Come rischiamo Di prendere il gol E l'abbiamo preso Alla fine Alla fine L'abbiamo preso Non so perché Ma Oh sfiga mia Ma quando prendo Il turbo 100 Fanno Fanno gol gli altri Non si sa perché Eccola là Vai Vai No Che cazzo è successo? Ragazzi Mi hanno fatto esplodere Potevo fare gol No Però Dai che abbiamo fatto gol Ugualmente Mamma mia Quello che mi leva la palla No no Io Io seriamente Mi viene nervoso Mi viene Sforbiciato a sto cazzo Io voglio fare il gol Cioè ragazzi Mi prefisso l'obiettivo E non riesco a farlo Mi ha dato l'assist però Cioè mi prefisso l'obiettivo E non riesco a farlo Perché magari gli altri Mi levano la palla Mi viene veramente Un'ingazzatura bestiale Eh ci hanno fatto gol di nuovo Ci hanno fatto gol di nuovo Mamma mia Guardate Cioè è assurdo Mi fanno dei gol Anzi ci fanno dei gol Perché è una squadra Cioè ci fanno dei gol Veramente incredibili Sì vabbè Ciao Ciao Ma che cavolo è Guardate che roba È partito dritto Cioè ha fatto sbattere La palla là E nessuno l'ha riuscita A prendere Dai Ma serio Dai Vai che qua faccio gol Eh vaffanculo Mi hanno levato di nuovo La palla Però ho ucciso a uno Ho ucciso a uno Mi hanno levato la palla Ma ho ucciso a uno Qui Pariamola Pariamola Corcazzo che la pariamo Corcazzo Ed eccola lì La palla Ed eccola lì Vai Ma vaffanculo Sì Hanno assegnato Incredibile Incredibile Che gol abbiamo fatto Com'è stato Voglio vedere Vai Abbiamo fatto tipo Una specie di rovesciata È stato tipo Un autogol Però il gol L'ha dato a me Mamma mia Dovevamo fare il gol D'obbligo Mamma mia Ce la facciamo E ce la facciamo All'ultimi minuti Ce la facciamo Dove cazzo è la palla Non si sa Vai Che dobbiamo vingerla Questa Dobbiamo Ma che cazzo hanno I giocatori hanno problemi Mi spingono E mi fanno Mi scambiano per palla Ma sei serio Dai che viene di nuovo Dai che viene di nuovo Ho sbagliato tasto Potevo segnare di nuovo Ma ho sbagliato Invece di cliccare X Per saltare Ho cliccato cerchio Per il nos Veramente Qualcosa di Incredibile Errori veramente Stupidi Di nuovo gol Di nuovo gol Mamma mia Mamma mia ragazzi Mamma mia Stupendo Due gol Guardate Due gol Uno dopo l'altro Mamma mia Che gol Ma no no Ragazzi Stiamo facendo Tutti i gol Della storia Incredibile Stiamo giocando Questi ultimi minuti Di partita Veramente Non male Ragazzi Veramente Molto bene Molto bene Dai vediamo un po' Riusciamo a fare un altro gol Vabbè Un altro gol La vedo un po' difficile Perché se no poi voglio troppo Se no poi voglio troppo Ma io lo voglio Io lo voglio L'entrata No no Sì No Vabbè Però mi ha dato niente Non mi ha dato niente Mamma mia Però abbiamo segnato ugualmente Guardate perché Ci mancava poco E la beccavo Se la beccavo era gol Dai Se l'ha toccata quella Però forse Se lui non la toccava Il gol lo dava a me Perché io avevo Prima fatto quella roba là Perché Il gol lo dà All'ultimo che l'ha toccata Quindi Mi dava il gol a me Sì Allora vediamo un po' Vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa qui Dov'è la palla Dov'è la palla Che cazzo è successo? Ma mi spingono Vai Vai No no Hai sbagliato Zio Hai sbagliato Hai sbagliato Patienza Dai che stiamo vingendo Vabbè stiamo vingendo Ormai abbiamo vinto Mangano 6 secondi 3 2 1 E fine la partita Fine la partita Vingitore Squadra blu Abbiamo vinto Che cazzo ho vinto Smile Mamma mia Cioè E' stato veramente E' stata una partita Veramente epica Siamo arrivati addirittura Primi Con due gol Un assist Una parata E due tiri Mamma mia Che partita Che ci siamo giocati Ci siamo giocati veramente Una partita epica Ragazzi Questo qui Era un video Appunto Dedicato a questo gioco Rocket League Che è Un spettacolo Incredibile Però Ti fa venire nervoso Quando non segno Oppure quando succedono Cazzate Comunque Il nervoso Ti viene ugualmente Quindi Niente Io spero che questo video Vi sia piaciuto Inoltre Fatemi sapere Se Volete Altri video Su Rocket League In compagnia Di altri youtuber Che troviamo Altri youtuber Ragazzi E appunto Facciamo il video Con altri youtuber Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se il video Vi è piaciuto Lasciando Un bel like Se volete Passare Dalla pagina Di facebook La trovate In descrizione Come sempre Iscrivetevi Al canale Per nuovi video Qua da willyj Tutto Bella raga Grazie a tutti